le bambine sono già entrate andiamo erika però dovete stare molto molto attente sai perché perché ci sono i cinghiali lo sai cosa c'è scritto attenzione cinghiali ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo daily vlog oggi vogliamo portarvi con noi e vi vogliamo mostrare il museo arte sella veramente c'è un posto bellissimo per prima cosa iscrivetevi al nostro canale attivate la campanellina e lasciate un bel like e restate con noi ciao a tutti ciao buongiorno amici oggi vi portiamo di nuovo in montagna guardate questo bellissimo posto erika però dovete stare molto molto attente sai perché perché ci guarda lì lo sai cosa c'è scritto attenzione cinghiali dobbiamo fare veramente attenzione perché è molto pericoloso e ne vuoi muovere cioè speriamo di no guarda papi li sta correndo dietro andiamo ecco ragazzi siamo entrati il biglietto è a pagamento i bambini piccolini non pagano pagano solo gli adulti abbiamo preso la mappa qua c'è il percorso che lo dobbiamo fare dopo qua giù c'è un altro percorso non vediamo non lo scoprire cosa ecco ma io già ho visto qualcosa amore guardate qua questa meraviglia c'è praticamente è un albero e dentro si può entrare veramente si può entrare qua ragazzi ehi ehi dove siete dai venite fuori per favore ma io ho paura di entrare lì dentro dai fate attenzione ragazze guardate sono subito entrate rifugio rifugio c'è qualcuno chi c'è qua chi c'è qua fate attenzione ragazze attenzione la testa prima il piede Vanessa cosa cosa è successo guardatela c'è tutta pagliata sporcata dove sei caduta è caduta lì brava bravissime adesso cosa facciamo come la cambiamo c'è è fatta una caduta veramente ciao io vado lupo dove sei state lì dentro lupo lupo dove sei dove lupo sono spaventata un po' Vanessa stai attenta stai attenta e qua cosa c'è guardate ragazzi c'è lì vedete la testa di Vanessa adesso vi faccio vedere ma guardate bisogna venire a vedere si bisogna venire a vedere a visitarlo a visitare questo museo ho visto tantissimi funghi qua tanti colori anche gli alberi c'è una meraviglia andiamo su 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 e vediamo cosa troveremo ma io ho visto una cosa ragazze ho visto dei funghi lì se li vedete anche voi guardate lì quello veramente è molto grande qua giù sono questi piccolini guardate ci sono piccolini guarda amore sono i funghi ecco anche lì sotto c'è e guarda lì sopra sempre i funghi lì ragazzi sapete sono buoni o no scrivetelo giù nei commenti vi facciamo vedere un po' tutto questo percorso che lo facciamo oggi è veramente potuto venire anche voi genitori portate i vostri bambini veramente si divertano qua sai perché abbiamo fatto questo giretino per vedere sì ma non lo so la sfera si chiama se non mi sbaglio la sfera non ho visto neanche il cartellino ma lo scuro laggi dovrà essere scritto tutto ragazzi cosa state guardando? la rana dai chi trova la rana? cosa? una rana? ma dove l'avete trovata? sai il gioco chi trova l'intruso? chi trova l'intruso? sì guarda aspettate voglio vederla oh sì eccola 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 sto saltando ragazzi ciao rana l'avete vista? il suo colore? proseguiamo? andiamo ragazzi io non lo vedo perché è andata vanessa è andata la rana wow ragazzi avete visto? sembra la casa di Elsa ma Elsa ha tante scalette anche la dovranno essere le scale andiamo più avanti ci avviciniamo e vediamo di cosa si tratta la casa di Elsa è la casa di Elsa qua nel bosco hai visto lì giù c'è un laberinto? laggiù dove è laggiù? laggiù? sì lì giù laggiù wow cioè vi potete immaginare che è fatto tutto con legna con i pezzi di legna vi potete immaginare ma le bambine sono già entrate andiamo rica dai venite 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 cosa fai con voi? vieni mamma oh guarda wow vieni da questa parte e seguimi ti seguo e anche voi ragazzi seguiteci seguiteci qui anche sul canale di youtube non dimenticare di iscrivervi al nostro canale cu attenzione mamma wow sembra che hanno buttato con i secchi di vernice ed ecco qua abbiamo finito di fare il percatto erica hanno fatto un pasticcio di legna wow c'è veramente una capodopera erica Vanessa andiamo lì sopra erica ma si può entrare qua? no non c'è non c'è la porta non c'è nessuna porta magari c'è di dire qualche parola segreta capello guarda c'è qui possiamo entrare? non ti facciamo male io ho tanta fame andiamo subito andiamo a mangiare andiamo a mangiare andiamo a mangiare la 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 così è andato bene? si dimmi ancora una volta è papi fantai cantate un nuovo gioco